Le ragazze, perché si parla di donne di 16 anni, che entravano in fabbrica agli inizi degli anni 50, volevano semplicemente scappare dai campi, tentare di avere una vita diversa da quella che avevano avuto le loro madri e le loro donne. Erano in fuga alla ricerca di qualcosa che non conoscevano, perché per molte l'industria fu una sorpresa anche sgradevole talvolta. Le ragazze di oggi, penso, abbiano linee di sviluppo e di ricerca del lavoro che sono proprie e diverse da quelle delle ragazze degli anni 50. È stato il giornalista e scrittore aretino Claudio Repec a ripercorrere davanti agli studenti del liceo scientifico Redi la storia economica di Arezzo. Dalle prime leboline, le operaie di una delle più grandi aziende di confezioni dell'aretino, nel dopoguerra, ad altre storie di aretini illuminati che negli anni della ricostruzione hanno poi fatto letteralmente la fortuna di un intero territorio. Il tentativo è di raccontare mezzo secolo di trasformazioni economiche del territorio con le parole dei protagonisti. Da una parte gli imprenditori e gli imprenditrici, cioè quelli che hanno creato le industrie, e le hanno create con un obiettivo che allora era soprattutto quello di creare prima occupazione e poi profitto. E poi con le storie degli operaie e degli operaie, soprattutto dal punto di vista degli operaie, la storia della seconda metà del Novecento è la storia dell'inizio, cioè del passaggio diretto dalla campagna all'industria. Una platea attenta, quella degli studenti aretini a cui sono destinate queste lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Intratevere Tarno. Tra loro magari ci sarà il prossimo imprenditore, sindaco o parlamentare aretino. Come vorrebbe che queste storie che Claudio porterà all'attenzione dei ragazzi venissero recepite, introitate da cervelli così giovani e in crescita? Esattamente come ha detto, cioè che qualcuno di loro, se non di quelli che sono presenti stamani mattina, qualcuno dei loro coetanei diventi per l'appunto sindaco o imprenditore, faccia qualche cosa di buono per se stesso, per la sua famiglia ovviamente, e per la nostra comunità.